Ciao ragazzi, sono Simone Ruggiati, faccio lo chef e sono andato da Paluani. Voglio vedere come si produce uno dei migliori pandori d'Italia, il burro. Pensavo fosse vegetale, pensavo fossero oli strani. No, è burro freschissimo, come quello che comprate ogni giorno nel supermercato, quello buono. E i miei consigli e le ricette le trovate anche all'interno della confezione nel flyer.